qui stava prendendo fuoco qualcosa professore si qualcuno ha dato fuoco quel vagabondo lì sono i topi piromani quel vagabondo arriva adesso il comune ma dai su rispendete a sto caccia di telefono ma addirittura professore sotto al comune sotto al comune ormai la situazione con il carrello con il carrello e la in fondo ecco lo riprendiamo e la facciamo vedere piero stava prendendo fuoco qui il cartellone in diretta accanto uno di questi nuovi cestini porta rifiuti incredibile pazzesco sono riusciti a buttare una secchiata d'acqua adesso è stato spento sta ancora fumando qua siamo proprio di fronte all'entrata del comune di alessandria e abbiamo il nostro piero che sta già avvisando la polizia municipale c'è il tipo un tipo con il carrello andiamo professore